Musica Piazza Duomo è la prima della fiera dello Ionio, incontro l'assessore Coniglio, due parole su questa edizione. L'obiettivo politico continua ad essere quello di animare il centro storico della città con un bel flusso di gente che ha delle ricadute sul centro, sulle attività commerciali, anche quest'anno c'è spazio per l'artigianato, per l'aglio alimentare e per il show cooking, per percorsi del gusto, è un'iniziativa che vogliamo coltivare anche negli anni a venire. Abbiamo anche raggiunto l'obiettivo dell'estensione del periodo, 11 giorni, che significa raddoppiare gli incassi, il comune è incassato più di 30.000 euro, la fiera costa molto meno e questo in tempi di spending review è un fatto importante.